ola a tutti ragazzi e benvenuti in un video oggi finalmente sono ritornato dopo tantissimo tempo e lo so ragazzi vi chiedo scusa immensamente scusa per questi giorni settimana non so quanto non so neanche quando è stato per me è un tipo un'eternità non fare video comunque non ho fatto video perché ero c'è problemi di salute ero malato febbre tosse mal di testa roba del genere e quindi non potevo fare video mi dispiace tantissimo ve lo dico ma però ma però non si dice ma comunque in questa diciamo scusatemi ma in questa diciamo assenza mi sono portato un po avanti sul mondo diciamo infatti come vedete allora qua tipo fatto questa specie di scalinata che devo ancora sistemare tutto la legna qua fa tipo questo soffitto carino e signori per far sta cosa non potete capire quanto scherato cioè è stata una cosa assurda fa tutta sta scalinata qua quanta legna non saltiamo perché altrimenti non si faccia così ok a posto allora uno piantare tagliare piantare tagliare alberi su alberi vedete qua tipo questi qua no ho detto beh questi qua sono tipo l'imparcatura dove io ho messo la terra per metterla per metterla legna ho detto boh ci sta ma quasi quasi lo lascio così per fa tipo scena per mantenere qua tipo alcuni lo creati arti c'è educati dopo aver fatto sto casino qua che boh creiamo stesse torrette qua e siamo a posto boh allora questa parte qua è la scalinata per portare per salire su di qua si scende e si va verso il piccolo rifugietto aia e zompa allora 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 di qua ci sono ancora i conigli dimmi di sì che carini siete ancora qua benissimo allora questo piccolo rifugio qua c'è un po di carbone qua non c'è niente qua neanche neanche terra su terra spade piccoli ecco dove ho messo i picconi che avevo fatto viene un po di roba questo magari ci potrebbe servire per questo ma questo sì perci un po di carne è cotta oh si è cotta questo perfetto la mettevo qua allora ragazzi oggi volevo fare un episodio dove costruito dove costruivo la casa voglio mangiare un po di roba così belli freschi li ho tipo rotto un po un bel po di alberi giganti della foresta infatti tipo preso un po di legna oscurissima qua mi sono ancora a piantare adesso risaliamo su in modo da vedere un po cosa costruire come casa ma tutto qui dai dai ok allora innanzitutto volevo tipo rompere queste volte mette queste porte qua e secondo me sono più fighe dai tipo metto qua è molto più bella cioè dico io hanno fatto gli aggiornamenti bene sfruttiamo gli aggiornamenti qua porca troia ok allora qui tutta la legna che ho diciamo recuperato allora adesso mi prendo un po di rosino facciamo stacca alla volta così con calma per non creare problemi allora 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 io direi come idea di costruzione non so molto bene a cosa fare diciamo questo il pavimento quindi quasi l'ingresso un isa tipo storto qua si dovrà collegare quindi qua magari arriverà fin qui il muro arriverà qua e si collegherà a questo questo qua poi sarà l'interno casa magari qua metteremo tipo come si chiamano le le scale come il nome per salire qua sul poi sull'albero ok ragazzi adesso costruiamo e vediamo un po cosa ci esce fuori a dopo grazie a tutti 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 rieccoci qui ragazzi allora la casa è quasi finita come come vedete allora di sicuro avete visto qualche taglio della costruzione perché mi sono accorto che come sta avvenendo sopra non mi stava piacendo quindi tutto di nuovo di distruggere ogni blocco di legna grazie a tutti 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 ci ho messo tantissimo tantissimo tempo per far giusto il tetto qui e infatti sotto avete visto le impalcature alcune le ho distrutte per farmi spazio di qua non posso più entrare di qua rompiamo questo ho visto che da qua su va spavano con zoom quindi ho detto beh mettiamo un attimo le torce per evitare che gli zombie entrino in casa allora adesso qua mi tocca mettere le torce giusto per illuminare un po' il tutto e quindi adesso metto un po' di luci per illuminare a dopo adesso metto un po' di luci Ok ed eccoci qui ragazzi Allora abbiamo tolto tutta Tutta questa terra qua Di merda ecco Fuori è notte quindi non mi conviene uscire Però io devo purtroppo uscire Comunque grazie stavo pensando Di creare una specie di secondo piano Della casa Magari non adesso perché ho visto che La legna l'ho quasi completamente finita Ho dovuto anche andare giù a riscavare Altra roba A riprendersi di riscavare A ritagliare di nuovo gli alberi Comunque ragazzi io qua Voglio un attimo farvi vedere la casa Diciamo dall'esterno come è Visto che qua poi io E da saltiamo Poi qua voglio fare Un piccolo di finestra Cioè il secondo piano Qua ci saranno le finestre Cioè verrà Appare il mio Poi dopo Dovrebbe Oggi proprio la lingua si sta Attaccando Dovrebbe Dovrebbe Venire fuori Una bellissima cosa Qui poi ovviamente Sarà Comunque un Continuo di casa Quindi qua poi sarà Tutto Scavato Qua ci saranno tipo Le stanze Poi giù ancora Faremo tipo Il mob spawner Lì in basso E tutto Poi visto che qua Faremo tipo Una seconda Una seconda Un secondo piano Che tipo Penso che Inizierà qua Perché qua ci sono le scale Dopo Sì Da qua Dovevo iniziare Comunque Da qua così Sopra poi metteremo Il letto Per dormire E altra roba Poi qua Tutte le ceste Ben organizzati Allora ragazzi Da casa È venuta abbastanza grande Mi piace Adesso controlliamo Sopra Se non spawni I mob Ma credo Che spawni Comunque Qua ho avuto Anche Nevi Gaffate anche Dentro C'era un po' Di neve Perché appunto Stavo costruendo Ok Non ci sono mob Per fortuna Le torce Si Le torce Bloccano Diciamo Qua sopra Sì Ok Ci sta Ci sta Adesso Il ragno Adesso Con calma Prendo tutte le ceste Lì Le trasporto qua Sì Dai Mi piace Come è venuta Mi piace Adesso Qua Facciamoci un ponte Ok Vederci Ok Ragazzi Anzi Facciamo così Finiamo in bellezza Dov'è Due Ecco fatto Perfetto Qua poi Con la pala Io prendo un po' Di paio di neve Benissimo ragazzi Allora La casa è finita Il video finisce qua Spero che vi sia piaciuto E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao 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 c'è 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 Ciao c'è